Oggi è il 21 di marzo, è il primo giorno di primavera. La natura torna alla vita. Dalla finestra si sentono le rondini cantare, sono tornate le cicogne e stanno anche fiorendo i primi fiori e noi siamo chiusi nelle nostre case. E così deve essere per fermare il propagarsi del virus. Ma non è semplice, senza dubbio, essere chiusi nel proprio micromondo. Finalmente riusciamo a capire quanto siano importanti i contatti con le altre persone. Quei piccoli gesti come un abbraccio, dare la mano, gesti che danno speranza allo spirito. Penso alle persone che sono sole in questo isolamento. Per loro tutto è più lento e triste. Oltre alla finestra mi manca quel ritmo frenetico della vita, le risate dei bambini, le chiacchiere dei passanti. Si può solo sperare che passi tutto rapidamente e che il mondo torni ad essere felice e contento. Ma sicuramente diverso.